musica monkey slow ok vai ciao ragazzi io sono creed con la depressione io sono creed e oggi siamo su l'ennesimo gioco del cazzo perchè non abbiamo niente da da giocare di bello e quindi giochiamo ai giochi che giochiamo ai giochi di merda che non divertono nessuno ma che dobbiamo fare perchè altrimenti non avevamo contenuti schianti esplosioni hai letteralmente descritto me e allora ti darò questo ma com'è che si gioca non mi ricordo i comandi ma con io sinceramente com'è che si cambiano le altre ah è vero che avevo troppo lanciagranate era rottissimo mary tu vuoi il sesso e allora ti darò il sesso che parola bella il sesso ma i sali porco che non mi ha schianto sulla prima montagna che trovo ma tu l'hai visto come è finito l'ultimo video di cosa no tu sei crashato e sono rimasto io sull'elicottero senza guidatore vuoi vedere come ti diverti porca ma ti diverti così porca puttana si vabbè ma è tutt'ora ooooh butati 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 no 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 ti sei divertito no cioè si si ma mi sono venuti in mente i flashback dell'ultimo episodio 2 e fra 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 ci sei si ok ehm ok perfetto andiamo in giro esploriamo troveremo dei bunker che cazzo ne so ma perché il personaggio occupa metà schermo esploriamo da un fastidio e no ok allora si però chi mi prendo cerchio quando corri ok vai buttati per bene vedi lì c'è dobbiamo esplorare lì sta una casa esploriamo dove dove quella quella come si piga non puoi anche qua sta una sta una zona è una zona c'è una cazzo vabbè come come si si però fra c'è il pollo fritto da mangiare qui c'è c'è il pollo da mangiare quindi devo devo oppare eh c'è da mangiare c'è il pollo quindi questo video deve essere breve e io devo tornare su Dragon Ball Z madonna merdare ma com'era quel gioco la che avevi detto era tipo di fight però non è in 2d cioè puoi stare tutta la mappa ah ma stavano ma stavano quelli di tutti gli anime si tutti 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 c'era pure l'uomo motosega no aprire romanzo solo quello non sta stanno tutti solo quello non c'è si ovviamente c'è Goku poi c'è Naruto poi c'è lo sbucco stanno tutti quelli più famosi che appena dici anime ti escono i primi risultati quelli e stanno quelli poi sta tipo sa anche quello di Death Note a pesca non me ne frega oh schifpa vini sei sulla zottera si questo qua voleva raccontarmi la storia della pesca ma tali o perché mi sono compagni facciamo la barca e ce ne andiamo si vai fai la domanda mentre stai giacendo ma lo spariamo lo faccio io as per fammi equipaggiare il mio uccidare al cecchino più pesante aspetta bellezza ma perché è morto dopo dopo due secondi poi puoi sparare puoi sparare all'npc che ti dà la missione ma ti vuoi nei giochi quelli che ti danno le missioni sono sempre immortali e quello è lo svello porta in salvo kel chi? è quello che è appena sparato ma è morto oh c'è un camion vediamo se non c'è nessuno dove 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 lì sopra la cacca rosa ma non ce l'ha nessuno anche una mitraglia derision gop eh? il cosi sulla mitragliatrice pazza sgravata come situare sulla mitragliatrice pazza sgravata come baule no 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 non vuole c'era la giornata e sto cercando il punto non vado e andare il baule aspè fermo aspè dai che è riuscito il tastino no vai la guida tu vai la guida ma devi andare al baule mi sa non aspetti e poi fai cambio di posto e ti metti qua perché scendo mannaccia cazzo o elevati dai nioni com'è che si cambia di ricerche esatto a vista ma è infinita o lì c'è qualcosa c'è un punto interrogato a se vediamo la mappa dove cazzo possiamo andare aria difensiva bimut a 3 km da qui si però la visuale più zoomata della zoom ma la nostra baggy burri può andare dappertutto guardare dappertutto perché inizia a parlare arabo si va tutto storto come si era la nostra mini si 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 sta 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 scattando la nostra biggis bubu ora come si impone guarda guarda si va tutto storto senti prendiamo il sentiero che ho perso il sentiero dove cazzo stai andando dai biggis burri dai biggis burri da potenza puoi fare dai ce la puoi fare brava brava troppo gli alberi un po gli alberi o io non so guidare io non so sparare mi rompi gli alberi non mi so che non posso rompere mi fai solo del dam si ma la nostra biggis burri mi stai fermo 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 percadio si che senso anche di disintragliare voglio no voglio vedere se se di rompe no no si si è stack rompi con la destra non rompe grande non vende mai con chi la grande spetti guarda 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 come si arrampi sì la biggis burri ma ti fatti sei mai chiesto perché si chiama biggis burri o cazzo c'è gente vabbè gli smitragli ma dove è sopra porca sopra dove ci stanno sparando attiva ecco ecco ma li vedo fuoco dio scendiamo scendiamo loro io li perforo creta mi sa che sono morti cazzo c'è un elicottero porca tuttana no 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 aspetta no ci hanno mandato a fuoco scappa troia ma io simbolo no guarda morte in action si rimasta in macchina e non abbiamo ucciso me ha atterrato e poi si è infiammato tutto ma se stai l'elicottero arrivo da te cazzo sono caduto porca troia però mi sa che il muoio mi stanno sparando tipo con lanciagranate no aspetta io provo a sottare i tipi che stanno sull'aereo quello no l'ho preso io con la granata granata lanciagranate io c'è il lanciagranate picchino ma d'ho ok che c'è chi o e porco o questo è corazzato prendiamo porca vai mitragliere mitragliere no sali non sale coddio ok mitragliere mitragliere ah c'è purello lo scudo questo è un corazzato fa un culo la vecchia sburri ma no ma quella non si fa ero ma la vecchia sburri arruggini città da uno spara ma doveva eccoli onzi ok ucciso i para vita ponzi i para vita no ma porca da ma sei tutto stack pure con la mecca comunque è inguidabile c'è tu non sai ma è tipo no io non voglio non puoi c'è impossibile guidarla c'è una buona maestro ma non è il maestro big a sburri e ma questa non è la mia vecchia bene fra mi sta venendo il mal di testa in prima persona a muovere tutto con il mio presso cioè stati aggiungato però però caputa cos'era quella discesa ora ogni volta che tu che tu che la macchina si si storce e come è come se se la mia visuale si storce insieme alla macchina e quindi non vede una minchia ma siamo al trentino no alto adige ok c'è favore scatti guarda scattato io ma accelero no che big sbubbo oh chi sta sparando stiamo arrivando a merda e adesso si fa sul serio crepa oh si ma stai scendiamo che c'è roba che cazzo è questo si pantino è stata una cosa cazzo cos'è cos'è che succede si ci hanno visto chi 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 è morto 1 nuova arma dove che c'è il mio cecchino sgrava tazzo concentrazione no ma sto cecchino è proprio un echino e c'è un drone abbattilo ma dove lì sopra oddio c'è un tipo ci sono dei tipi aspetta 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 io ho tirato la smog e quindi un big sbubbo ma cosa può ancora meglio c'è il mitraglione ancora più grosso è quello di prima uguale ah però non è arrugginito almeno un elicopter aspetta lo faccio esplodere lo sparo con la minigun che è incontrollabile è una cosa ma il passato remoto di isi e isis ma da dove lei capi sis ma la vecchia soli 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 si arrampita qua sopra e no no non ce la fa non ce la fa c'è fuori controllo ma io voglio accecchiare people era pappa pazzo dove stanno i tipi o però che bello il trentino momento ideale per fare un ci abbiamo tipo il paracadute perché se non possiamo andare tipo in altissimi ah comunque ce la fa ad arrampicarsi sta cosa assurda altro che le macchine di entorno che le ha pagate 20 euro l'uno e non fanno un cazzo site se mai voglio accecchiare dove stanno le people ma non ci sono ma sta l'accampamento qua sopra se andiamo è pieno chi ci ha visto porca no aspetta la la oh si aspetta 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 eh oh no finito i proietti ah no ce li ho suca bomba ragazzi finendo i razzi no io sono ci penso io con c'era uno col pompa e avevo il cecchino in mano quindi adesso arriviamo vai vai cura vai vai cura eh questa asciugata ti daremo entrare il libro che stava ti dovere 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 spera un attimo dove sono i ciccioni dove sono i ciccioni comunque io ho trovato delle cose ma ma cosa porta piastre porta anche dei pantaloni più sexy ma il successo è successo perché non perché se miro col cecchino non mi porta col mirino completo che se c'è io miro ma non non mira come dovrebbe mirare un cecchino cioè non con il mio piatto arma no no è sempre quella mi sa che ho toccato qualcosa neanche messo il silenziatore cazzo sono arrivato a sfinimento no no vabbè farò senza mirino perché devo bere tante potente comunque tipo posso riempire la borraccia si io faccio ma io voglio mirare perché non mira riempi d'acqua ah ma puoi riempire puoi avere acqua infinita che te ne fai dell'acqua e recuperi la stamina ah ma non capisco il cerco sono le mince che stanno delle moto ah fin qua se premi l'analogico destro cambia modalità di mira la cassa tattica ma pure con questo vale ma io in teoria posso potenziare il drone però non so come si fa vabbè io tra poco devo andare quindi facciamo qualcosa di fast and full vieni qua vieni qua vieni 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 guarda cosa ho trovato vieni non so devo mettere le cose del drone vieni 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 porca putta è veloce veloce che c'è il pollo guarda cosa ho trovato gli ultimi trick prima ma ora l'ignora lì con il là che ci sparano l'ignora quell'aereo grande e grosso poi non sale come non sale vai 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 brum brum seguimi seguimi facciamo i nico trick non credo che possano fare ahia porca madonna torna indietro ma dove si sono oggi porca ora dove stai oh riders republic sono tutto rotto soffoco oh guarda come non si schianta mai beh si mi esplosa la moto puoi salire tipo con me bovini giù ti ho un bel problema ho vengo io su non puoi salire no aspetta vabbè ma si lo faccio tipo no non posso no c'è l'acqua che vuol dire sfinimento eh uno dei tuoi alleati a te come ma 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 cosa vuol dire sfinito cioè come come si causa i diritti ma come si causa loro finiscono a stanno e come la finiscono a stanno come si beve oh dio no con la borraccia e non no aspetta come si cambia item r1 ma che cazzo ho fatto ma ma che cosa ma attacca da attacco cosa hai fatto so tipo perché ci stava venendo tipo 5 team diversi ti ho visualizzato stai fermo cioè visualizzato il messaggio stai fermo perfetto ma perché non lo so volevo provare ma sono dei tipi qua sopra provalo su di loro ma dove dove sto io morto eruzione del collegamento no voglio uscire veloce 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 ma è bellissima ma che cazzo ho fatto vabbè io devo andare e quindi ragazzi vi è piaciuto questo nuovo video tra le nevi del trentino alto adi c'è sto crepando nella neve o freddo nella caina e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao